Ciao, vi porto al percorso didattico del caseificio presa nera di Mezzana. Sentite già i rumori, immaginatevi. Con questa splendida... Vedete dalla finestra guarda e ascolto, bellissimo. Qua cominciano con gli attrezzi vecchi, vedete fieno, il rastrello, vi spiegano le erbe che sono l'alimentazione dell'alpeggio. Vedete, qua ci sono altre cose antiche, portalatte, e qua tutta la spiegazione, ad esempio, delle mucche della zona. Qua si scende e si vedono altri attrezzi della tradizione solandra, cioè della Val di Sole, qui siamo a Mezzana, ricordiamolo, vedete. Guardate che bello. Tutti attrezzi per fare il latte con la loro spiegazione, della zangola, questo mastele, tutto, 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 tutto. Si prosegue, qua c'è lo stampo, avete uno sguardo proprio sul caseificio, cioè dove proprio fanno il formaggio, e il percorso termina qui, scendendo queste scalette e si arriva esattamente dove il formaggio grana riposa. Adesso io non lo so, provo a farvi vedere. Ecco qua, guardate quante ce ne sono. È impressionante, no? Spero che questo percorso didattico vi sia piaciuto, chiaramente sono stato veloce perché vi invito a vederlo in continuazione, quindi venite qui al caseificio Presanella di Mezzana dove prendete del formaggio che è strepitoso e potete fare anche il percorso didattico. Non so con quanta cadenza, ma fanno proprio dei percorsi didattici a spiegazione con una persona che vi spiega esattamente tutto, proprio per filo di presenza, una guida turistica. Quindi, se non avete, anzi se non avete niente da fare, trovatevi tempo per venire qua e vedere questa meraviglia. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.